Alvia la nuova linea di credito Ismea per un totale di 19,3 milioni di euro dedicata alle piccole e medie imprese agricole del settore ortofrutticolo introdotta con la legge di bilancio 2024. Lo sportello telematico per la compilazione delle domande relative al prestito cambiario aprirà alle ore 12 dell'8 aprile 2024. La cambiale ortofrutta fornirà liquidità alle piccole e medie imprese del settore con finanziamenti di importo fino al 50% dei ricavi registrati dal richiedente nel 2022 e comunque entro la soglia di 30 mila euro con durata di 5 anni di cui 2 di preammortamento, rate trimestrali posticipate e conseguente inizio del rimborso a 27 mesi dalla data di erogazione. Il prestito è concesso a tasso agevolato con abbattimento fino ad azzeramento degli interessi dovuti nei limiti della capienza degli aiuti dei minimis di ciascun beneficiario.